L'area di Napoli è un bene comune. Fai controllare il tuo impianto di riscaldamento e raffrescamento per avere più efficienza, più risparmio, più sostenibilità. L'area di Napoli è un bene comune, questo perché stiamo monitorando costantemente questo bene. Abbiamo in piedi alcune ordinanze da tempo, tra cui quella del porto, che ringraziamo perché costringe le navi che attraccano al porto di Napoli a passare ad un combustibile a basso contenuto di zolfo. Siamo l'unica città che ha questo dispositivo. Con oggi noi invitiamo e mettiamo in piedi una campagna di comunicazione capillare molto importante, unica nel suo genere, che è rivolta ai cittadini e agli installatori per l'efficientamento degli impianti di riscaldamento. Le misure prese per il benessere ambientale e la sostenibilità possono essere anche l'occasione giusta per migliorare l'efficienza energetica e il risparmio. Questa volta l'obiettivo delle azioni programmate dal Comune di Napoli è il miglioramento della qualità dell'aria, nell'ottica della sicurezza e della qualità dell'ambiente urbano e per contrastare i cambiamenti climatici. Oggi a Palazzo San Giacomo è stata presentata la campagna di comunicazione in materia di impianti termici, come previsto da una delibera di giunta del 2019 in attuazione della legge regionale, per informare i cittadini sulle nuove modalità di gestione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento che necessitano ora di tecnici specializzati nell'installazione e manutenzione. Al Comune il compito di informare, facilitare e controllare. L'efficientamento di questi impianti incide per il 50% sulla qualità dell'aria della nostra città. Ecco, l'amministrazione, anche in virtù di questa mia nuova delega che lotta ai cambiamenti climatici, e una delle altre ipotesi che noi stiamo mettendo in piedi forte è quella di realizzare un catastro cittadino di tutti gli impianti. Il cittadino è tenuto ad adeguarsi, il cittadino è tenuto a fare questi controlli e a inviare al Comune l'esito di questi controlli che gli installatori, i verificatori e gli operatori di settore sapranno comunicare attraverso un'apposita modulistica.